Buongiorno ragazzi, io sono Rewake e oggi siamo qui in questa nuova serie in collaborazione con Cili per parlare dei film preferiti dei rapper che ascoltiamo di più. Oggi abbiamo chiesto a gue pequeño e il primo film di cui ha voluto parlarci è Robocop di Verhoeven. Questa pellicola dell'87 è ambientata a Detroit, in cui bande di drogati, spacciatori e assassini girano per la città. La società COP decide quindi di creare un robot corazzato che tuteli i cittadini durante la notte. Viene quindi, dopo alcune problematiche, lanciato Robocop. Che cosa vogliono fare? Sostituirci? Il secondo e l'ultimo film fra i preferiti di gue è Scarface. Qui il protagonista, Tony Montana, arriva negli Stati Uniti, tentando di spacciarsi per politico ma senza riuscirci. Io non sono un criminale dico e non sono neanche un lato. Io sono Tony Montana, un prigioniero politico. Decide quindi di entrare nel mondo della malavita senza farsi scrupoli o uccidendo chiunque tenti di rallentarlo. I veri guai però arrivano quando Tony si rifiuta di fare un lavoro per il boss Sosa. Il fatto ragazzi, il video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e come ogni volta vi ricordo di farci sapere con un commento qua sotto quali sono i vostri film preferiti. Detto questo, io vi saluto.